ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video si torna a pullare su genshin e io pullo di nuovo poco lo so ho un periodo un po' di magra però prometto che per fonte si per fonte è impernatela mi rifaccio assolutamente oggi abbiamo il garantito perché abbiamo scolato la volta scorsa l'avete vista nel video precedente quindi cipolliamo la coniglietta e teniamo il resto per la 4.8 e principalmente per la 5.0 quindi sono inizio pt perché sono a zero tondo 50 e 50 non da vincere perché abbiamo il garantito devo costellare gaming gli alti sono tutti 16 quindi sono a posto e niente ci sono anche le pull degli altri dopo quindi vi auguro buona visione spero vi divertiate 3 2 1 pt 0 andiamo a pt 10 4 stelle vabbè io qua qualche multi la vorrei fare cioè non vi dico un pt intero però insomma io ovviamente ci sono tre personaggi in rate up in questo gioco io cosa faccio trovo uno che non è in di rate up e che ho già c6 giustamente mi sembra mi sembra giusto così questo dovrebbe essere gaming magari invece no shaling volevo il pyro non lui cioè non lei vorremmo un lui però va bene che ci vogliamo fare shaling è un'altra c40 ragazzi proprio gli c6 quelli fatti a inizio inizio gioco però è una pull è una pull non si butta mai via si butta mai via ok andiamo a 20 4 stelle allora vediamo un po adesso è garantito uno dei tre del banner sarebbe un miracolo se fosse gaming lo trovo improbabile però vediamo appunto signorina pull vediamo se c'è anche il doppio visto che siamo inizio multi le vedi tutte ora upsi no io queste no io vedo tutte quelle di putering infatti più tardi avrò un esaurimento probabilmente lì avrò un bel esaurimento qui ancora no 30 voi non potete capire la me di questo momento che gioia con il garantito c4 evviva almeno uno grazie grazie c4 oh bene bene dai doppio gaming come ho fatto a gorex forza doppio gaming no veramente raga il benessere del garantito io non lo stanno lo provavo da una vita su sto gioco vabbè doppio 4 stelle comunque non si butta via di nuovo garantito uno di quelli del banner va bene lo stesso anche su un'arma proprio veramente 40 vediamo vediamo alzare il piti in questo caso mi fa volare perché mi fa sperare che mi non riescano altri gaming andiamo andiamo ok il prossimo è il 4 stelle yes sì c5 no raga io so già cosa succede adesso non ne escono più adesso non ne escono più ne sono usciti due di fila adesso non me ne danno più adesso non me ne danno più rimango con la c5 a piangere no raga no no un altro ti prego ti prego voglio verso un altro solo ti prego abbiamo altre tipo 3 4 multi per favore 50 please please un altro garantito 4 stelle del banner garantito 4 stelle del banner vediamo poi inizio multi buono inizio multi buono inizio multi buono ok qui nulla proprio nulla cosmico oddio i 3 multi ci sei non ci vedo niente a piangere no no non ci vedo niente a piangere abbiamo fatto ci sei i 3 multi che bello sono contenta era il mio unico grande obiettivo di questo banner perché la coniglia era garantita quindi sono molto contenta ora 4 stelle possono darmi quello che vogliono va bene tutto abbiamo fatto gaming ci sei sono troppo contenta quando l'ho visto nel banner è stato il mio unico bagliore di speranza in questo banner che quando l'ho visto ho detto sono va sono proprio vabbè dai magari ci sei va bene 60 4 stelle ci siamo quasi eh raga ci siamo quasi ora può uscire chiunque quindi chirara eccola chirara eccola qua è proprio lei è di nuovo garantito del banner ora il 4 stelle ed è comunque una pull chiunque sia è una pull quindi top se ce n'è un altro se no si va alla multi dopo prima o poi ragazzi prima o poi succederà multi delle armi multi fortunata la prossima andiamo a 70 magari esce una multi prima la sigi andiamo a 70 bimba coniglia no ci fa ci fa aspettare va bene ma io tanto raga va bene c7 ora si inizia la scalata dei gaming c7 ma va bene fine buono doppio 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 4 stelle vuol dire multi da 8 singole top noel c800 raga lei veramente si va a considerazione c centinaio quindi pull up at alla grande triplo 4 stelle e anche lei è c6 multi da 7 sta il glitter invece che da 10 no raga ma pazzesca ma sarà pazzesca top bene ci siamo rifatti 3 singole multi da 7 esatto ci siamo rifatti 3 singole adesso faccio 4 singole poi la multi del 5 stelle e ci siamo allora 71 puoi anche uscire in queste eh seggiwine 72 ok 73 74 ok ci siamo raga ci siamo è il momento della verità eccoci ci siamo speriamo bene no vabbè va bene comunque a prescindere multi del 5 stelle let's go wash dopo ancora più tardi no ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ok 75 76 77 oddio che carino splash art non l'avevo ancora vista perché non l'ha pullato nessuno tra l'abbiamo no no metto a piangere ma quanto è bellina ma quanto è bellina ma quanto è bellina mi è catta troppo caruccia di 32 Kirara vero sì certo 42 ok no no 5 stelle no 4 magari anche mi basterebbe qualcuno dei 4 stelle che non ho costellato sarei contenta lo so che sono pochi quindi è un po' un casino però vediamo vediamo oh di nuovo il fabolio suorbo grazie 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 va bene lo accetto va bene lo accetto oh doppio grazie anche laio perception grazie mille grazie mille grazie veramente gentilissimi perfetto 4 stelle va bene va bene ci sta lo accettiamo lo accettiamo di buon grado così quando ripulliamo prossima patch non siamo va bene una pool ottimo se ce n'è una seconda sarei contenta un doppio 4 stelle sarei molto contenta così si torna indietro i pool quindi Paolo e ups andate su Discord con Davide preparatevi organizzatevi e ci siamo pollo pat sarebbe bene un doppio pollo pat niente va bene lo accettiamo Nicky come te la senti? preferirei non sentirmela però vediamo va bene andiamo andiamo di Nicky mi piace il fatto che è sempre così convinto quando fa le cose andiamo vediamo hai trovato il 5 stelle allora intanto c'è è grande 75 ecco 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 fra due singole sbanano si 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 oh 4 stelle gaming ragazzi esiste astagrazia ragazzi esiste non l'hanno tolto non l'hanno tolto questo esiste ancora oltre betta cosa le ho mandato per mentre era fuori e gli ho scritto marcando il territorio ora te lo in oltre mi fermo? no no per andare tanto ci metto un secondo ok fatto va bene cioè io non ho parole Paolo fai davvero schifo io ti rovo io non dovevo guardare guardo quando quando pullagorex non guardo guardo il telefono un attimo succede questo a 72 72 sì con il 50 e 50 canon di Paolo possiamo andare siamo a 0 10 da tanto Paolo adesso un 5 stelle in 2-3 multi lo dirò come al suo solito tutte queste insieme di cose che hanno reso il fatto eccolo qua che dicevo entro 3 multi Paolo trova il 5 stelle taglierò la clip esattamente così metterò quello pezzetto e poi questo e dirò ecco ragazzi l'avevo detto vediamo se è quello giusto non so nemmeno com'è la splash art della bambina l'avevo detto prima troppo facile per me eccola qua ragazzi è quel momento è quel momento va bene va bene così come stai Paolo ma resta resterà lì dov'è 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 a che costellazione oh Betty sei felice c'è la tua main sei felice oh bene sono contenta vediamo a che costellazione abbiamo fatto in fondo della casa a livello 1 mai considerata eccola lì nel mezzo C C bella battuta questa C C 87 ci siamo yes si abbiamo vinto c'è c'è l'ho sapere si Buongiorno!